Prende il via venerdì 8 dicembre Lanternia, il festival internazionale delle lanterne giganti che quest'anno sarà ospitato dall'Italia a Cassino con un investimento da parte di un consorzio di imprese cinesi da oltre 4 milioni di euro sul Lazio. Dopo Amsterdam, Londra, Miami, Tokyo, Tallinn, Shanghai e New York, la Cina ha deciso di puntare sull'Italia per la kermess dedicata alle caratteristiche lanterne cinesi da 2000 anni, protagoniste indiscusse di riti, feste e cerimonie orientali come la festa delle lanterne durante la quale in Cina e in numerosi altri paesi dell'Estremo Oriente i cittadini festeggiano la fine del Capodanno illuminando il cielo con migliaia di lanterne contenenti messaggi di buon auspicio. Il festival internazionale Lanternia, patrocinato dall'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, aprirà i battenti venerdì 8 dicembre presso il parco tematico Bosco delle Favole di Cassino in provincia di Frosinone, alle ore 17 taglio del nastro alla presenza delle istituzioni e accensione delle lanterne giganti e dà la vita fino al 10 marzo 2024 uno spettacolo su un'area di 110.000 metri quadrati che ospiterà più di 300 lanterne giganti da tutto il mondo del valore di 2 milioni di euro illuminate da oltre 2,5 km di luci e 60.000 lampadine a LED.